Musica Bella Fanny, eccoci tornati sui Cavaliere dello Zodio con i WeForFanny Io sono sempre, sono sempre Lello, non ho cambiato identità Oggi se vi ricordate siamo alla casa di Virgo della Vergine E dovremo combattere con Fenix Quindi partiamo subito, veloci, vai partiamo con la storiella Fenixia, Siliu, Juno 3人 Io sono le ringrazio con i chiedoli uo il nostro popolo La strategia degli sii Cavaliere della popola Inısı la scena di Sera, e i ragazzi sono contenti Ma non acciondoti che adatta i dobbiamo A presto, i salti sono stati di Giorgio Non mi credo che ci sono arrivato fino ad arrivare alla fine. Non mi credo che i GOLD SAINT, non mi credo che i GOLD SAINT. Ah... 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 Grazie a tutti Eccoci allora ricordiamo che Virgo è quello degli occhi Che non si devono aprire Guardate che posizione proprio ha Non ho neanche letto per fare questa posizione Ma guardate che arriva tutto popofiero Come si suol dire Vai Subito No stai fermo Ma devi stare zitto Ma non devi dire le cazzerie Ma non devi farle queste cose Ma smetti a proteggerti mi sembri Baxter Ah si non si arrabbia tanto Baxter Io gli ho dato questa etichetta Vai muori muori No pugno diabolico Prenditelo Bastianich Bastianich torna a fare Masterchef Non lo so ragazzi Comunque torniamo a combattere Muori 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 Io ti prendo a cartoni Prendilo No Eccolo Lo hai preso È tutto tutto Devi morirci Ma quanto ti proteggi nella tua vita Basta 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 Olè col pugno diabolico Prendilo No Sono con l'altro No Ho sbagliato il potere speciale qua della fresca Prendilo Basta Stai sulle valle perché ti proteggi tantissimo Non ti sopporto mai Oh no 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 Il potere speciale vuole usare Cos'è sta cosa Spacca le ossa Eia Fuori la prima Vai per la seconda subito così veloce Eccolo Eccolo Non ho visto gli achievement Quindi Un po' casuale la cosa E infatti No Uno a caso Ma fa niente E allora partiamo subito con la seconda Mi sento spento Devo accendermi Devo accendermi Bambamabamabamabamabamabamab Quali sono il mio amore? Quali è il mio amore? Quali che è il mio amore? Quali è il mio amore? Quali il mio amore? E' il mio amore! B.. Bacanò? Io... Ciascuno... Per il tuo un po' di più, ma che volevo dare farvi un po' di più il mare. Grazie a tutti. 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 Virgo è fatto, è finito, è ormai un ricordo nei cavalieri dello Zominzio, va bene, e grado B di Baxter anche noi al suo giro. E gli achievement li finiamo sempre tutti, abbiamo ottenuto tutto qua. Comunque ragazzi, tra l'altro ho il Cosmo Supremo, il trofeo. Ragazzi! Oh, Lady Oscar è morto, la Lady Oscar è morto, ci ha portato via Fenix, abbiamo deciso che Lady Oscar fa niente. Comunque volevo dire prima ma ero troppo in fretta. Ragazzi, per oggi è finita, quante cose che sono sbloccate. Ci vediamo alla prossima con Casa della Vilancia. No, nemico non si sa, nemico non si sa, nemico non si sa, comunque ci vediamo alla prossima. Ciao!